Diciamo che ho voluto coniugare in questa mia avventura quella che è la mia passione più grande, il viaggio, con quella che è stata l'esperienza peggiore finora della mia vita, ovvero il cancro. E in questo modo sto soprattutto per me affiancando a questa brutta esperienza che ho avuto qualcosa di positivo, quindi creare da questa brutta esperienza qualcosa di buono per me e anche per gli altri. Anche perché queste sorte di storie che vengono definite storie di speranza, quindi di persone che hanno affrontato queste brutte situazioni e poi hanno deciso di ripartire in qualche modo, la mia è solo l'ennesima storia perché ce ne sono tantissime. Forse la più celebre è quella di Francesco Acerbi della Lazio, ma ce ne sono tanti. Armstrong, insomma ci sono tantissime storie anche poi meno note. Ho voluto ricreare un po' quello, ovvero offrire alle persone malate una storia di speranza e utilizzare questo mio racconto anche per promuovere una raccolta fondi per finanziare la ricerca, che è comunque lo strumento principale per contrastare la malattia. Quindi come io sono riuscito a superarla grazie alla ricerca, ovviamente la speranza è quello che grazie a questo tipo di attività la ricerca diventi uno strumento sempre più efficace e quindi salvi sempre più persone. Cambia marcia, toccherà anche l'Irpinia, diversi paesi della nostra comunità ti verranno protagonista? Sì, poi guarda, ovviamente come dicevo ho coniugato appunto il viaggio, quindi il percorso l'ho scelto anche in base a zone magari che non conoscevo, che non ho mai diciamo così frequentato. Quindi è un po' un zigzag per l'Italia, ho fatto l'Umbria, la Toscana, ora sono a Roma. Il messaggio di Marco Vegliante al mondo dello sport qual è? Appunto cambiare marcia vuol dire non mollare e quindi penso che per gli sportivi questa è la parola d'ordine. Il non fermarsi davanti alle difficoltà, poi voglio dire per me in questo caso è stato il tumore ma qualunque tipo di difficoltà uno si trovi ad affrontare, non bisogna fermarsi ma appunto cambiare marcia.